I carabinieri del nucleo radiomobile di Siracusa hanno tratto in arresto un pregiudicato di 20 anni del posto per resistenza a pubblico ufficiale. Il ventenne, dopo essere stato arrestato lo scorso giugno per estorsione, rapina e detenzione di armi, era stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. I militari dell'arma, ricevuto l'allarme del dispositivo tecnologico segnalato dalla centrale operativa, hanno raggiunto l'abitazione del giovane che dapprima si è rifiutato di aprire la porta e successivamente, dopo averla aperta, ha riferito frasi minacciose all'indirizzo degli operanti. Durante il controllo, all'interno dell'abitazione, i carabinieri hanno trovato sul tavolo della cucina quattro cellulari, tre sigarette elettroniche, un mazzo di carte da poker e numerose fish. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato nuovamente ricondotto ai domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria Aretusea.